Buonasera amici di Sportisi, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentare la diciottesima ed ultima giornata delle campi di Serie D che vede affrontarsi Sparta-Palermo e Palermo Futsal Club. Kinnici, c'è il dribbling tentato poi in bucata, Billiteri cambia gioco molto bene dalle parti di Lopez, mette ancora palla in mezzo per Billiteri che aggancia Billiteri e il palo qui nega il gol ma che grande palla ha dato Lopez al quarto minuto. Ancora Kinnici per Olario Monteverdi, super, poi respinta ancora di Lopez e super Alessio Monteverdi che respinge la duplice occasione del Palermo Futsal Club. Kinnici, vuole la velocità, Billiteri, guarda la porta e calcia, Monteverdi sul primo palo, non è, si fa beffare. Cilidafici, Gennaro, tre di due gol, è una gara di andata, Gennaro salta all'uomo e poi scarica su Leto che cerca la conclusione da fuori e Monteverdi mette il piede nel momento giusto, palla in calcio d'angolo, pericoloso anche Leto. Kinnici, il lettaglio, tutto il campo, per Gennaro, l'è finta e Gennaro rientra sul sinistro, fa ciò che vuole, batte Monteverdi, 1-0. Kinnici, fa una finta, poi apparecchia per Gennaro, che non se lo fa ripetere due volte, fa doppietta, ma ancora una volta una incredibile giocata da parte, quasi nemmeno lo dobbiamo dire. Lorenzo, Kinnici, 0-2. Tanto Cilidafici, col mancino, Conigliaro la tocca, poi Rizzotto prova a controllarla, si mette davanti, va giù, tutto ok, si continua, Leto, c'è c'è l'altra parte, Leto, con la punta, sul palo lontano, trova 0-3. Conigliaro sul mancino, potrebbe caricare il sinistro da fuori, Calire spinge, poi Cilidafici non vuole concedere il tapin di Marzo. Riminella, buona il suo contrasto, Riminella salta 1, poi col tacco. Magia assoluta di Riminella, che fa il gol dell'1-3, riapre la partita per lo Sparta-Palermo. Lopez, cerca Alario, vince il rimpallo, Alario con la punta, prende in pieno il portiere, poi Billiteri due volte. Conigliaro, apre per Catanzaro, buono qui l'aggancio, Conigliaro ancora, ed è 2-3, perfetta l'azione dello Sparta-Palermo, che adesso vede il pareggio sempre più vicino. Chinnici, Billiteri, questo è calcio, imbucata per Gennaro, che non se lo fa dire nemmeno per un istante. Tocca il terzo pallone della sua partita, fa 3 gol, come il remida, Gabbia e Gennaro, 2-4. Trotto da Zangara, poi Chinnici, sempre molto utile, non si ferma mai il numero 10, c'è il taglio di Leto, lo vede, palla illuminante a Leto, salta a Rizzotto, Leto con il sinistro! E doppietta personale anche per Alessio Leto, però che palla, sempre del solito Lorenzo Chinnici. Rientra Scozzari, buon lavoro, poi non riesce a calciare, Scozzari ancora! Forse era un passaggio, forse no però, il sesto gol è arrivato e la firma è di Nini Scozzari. Scozzari. Adesso Lopez e poi va bene così, finisce, poi super gol di Alario, nel momento che commentiamo anche questo, ma diciamo finisce qui la partita e vince 2-6 il Palermo Futsal Club contro lo Sparta Palermo e saluta definitivamente il campionato di Serie D con la vittoria del campionato.